ci sarebbe un nome scritto sul registro degli indagati che potrebbe risolvere il mistero della scomparsa della cantante rock greta speraficola 53 anni di erba scomparsa da porto tolle rovigo dal 5 giugno scorso come scrive fanpage.it greta si trovava in veneto per vendere una casa di famiglia ma non si è mai presentata all'appuntamento che aveva con il notaio la donna sarebbe salita a bordo della sua auto una kia picanto e sarebbe sparita nel nulla la procura di rovigo è vendagato fino ad ora sul reato di sequestro di persona a carico di ignoti adesso potrebbe addirittura aprirsi la pista dell'omicidio grazie a tutti